Signora Ministro Lamorgesa, a lei le conclusioni doverose perché le abbiamo rassegnato un quadro che io ritengo edificante sotto il profilo della comunione tecnica giuridica tra il privato e il pubblico. Allora, grazie a tutti per essere qui. Io credo che questo sia un momento importante che dà proprio il senso della squadra, la squadra tra il pubblico, il privato e con il Ministero degli Esteri siamo consuetudine lavorare insieme, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo rapporti continui, proprio per le materie che ci vedono in primo piano impegnati su tanti fronti internazionali ed ecco gli esteri che poi hanno delle ricadute all'interno del nostro Paese ed ecco gli interni. Ma quello che vedo è la partecipazione di tutti, quindi davvero devo ringraziare tutti i sottoscrittori di questo corridoio umanitario che è particolarmente importante. Perché importante? Io vorrei ricordare, l'hanno già fatto gli altri prima di me, Noi siamo partiti che quest'estate degli aerei militari hanno portato in Italia e noi siamo stati immediatamente disponibili e pronti anche nell'accoglienza circa 5.000 afghani. Vorrei ricordare anche che durante un incontro internazionale che abbiamo avuto a Lussemburgo, mi pare, io notai che non tutti i Paesi, d'altra parte ne hanno dato anche notizia i giornali, non tutti i Paesi hanno questa, diciamo come ce l'ha l'Italia, questa propensione all'accoglienza, al rispetto dei diritti umani e questa attenzione, ecco vorrei dire, che il nostro Paese non fa mai mancare e noi sappiamo quanto questi argomenti siano argomenti sensibili, che tante volte vengono anche utilizzati in vari momenti storici, anche come propaganda, però io ho sempre detto una cosa, che purtroppo intorno a noi, intorno nel mondo, stanno cambiando degli equilibri, noi dobbiamo tenerne conto, noi vediamo che cosa sta succedendo in Tunisia, in Libia e poi abbiamo avuto l'Afghanistan, l'Afghanistan che ci ha portato i 5.000 certo che sono arrivati e questi corridoi umanitari, che davvero io mi auguro che poi si arrivi a 2.000 con l'apporto di tutti. Perché? Perché è certamente un popolo che ha sofferto, che si è trovato in gravissima difficoltà e tutti noi abbiamo assistito anche dalle tv con ansia a tutto quello che avveniva, come da un momento all'altro sembrava che i diritti umani fossero cancellati, come il valore dell'essere donna, di essere una professionista, di poter lavorare con il rispetto per la propria persona fosse stato cancellato. Voleva dire ritornare indietro di quanti anni. Allora l'Italia, in questo lo dicevo prima, è un paese accogliente, addirittura noi abbiamo portato anche un aumento dei posti nell'accoglienza, nella rete SAI, proprio perché tutto ciò garantisce un percorso di tipo diverso, anche di integrazione, conoscenza della lingua, conoscenza di quelle che sono le nostre regole. E l'abbiamo fatto convintamente e in quello il Governo è stato assolutamente dalla parte nostra, il Ministero dell'Interno, che ha proposto questa iniziativa. Quindi c'è assolutamente una condivisione di quelli che sono i progetti, di quello che è l'impostazione che l'Italia ha avuto negli anni e che continuerà ad avere anche prossimamente. Certo, bisogna anche dire, e mi sento di dirlo anche in questo frangente, che non sempre l'Europa è presente, perché lo dicevo prima, non tutti erano d'accordo su questa linea dell'accoglienza, diamo risorse purché a casa loro. E allora, quando ciò non è possibile, ecco qua questi corridoi umanitari, se non sbaglio, sono afghani, ma che si sono rifugiati in Pakistan, in Iran, quindi il fatto di portarli ora in Italia vuol dire dare alle loro famiglie un percorso di vita più sereno, più democratico. E allora tutto ciò fa sì che un pensiero a come io vedo l'Europa, un'Europa più solidale, più responsabile, più partecipativa a quelli che sono problemi che non possono ricadere soltanto su alcuni Stati. Questo è un caso specifico, dove anche altri Paesi europei hanno assolutamente partecipato, però io non posso non dire che per quanto riguarda i processi di immigrazione che noi stiamo vivendo, i flussi che stiamo vivendo in questo periodo, interventi in Libia di salvataggi, abbiamo adesso delle navi di ONG che stanno portando, che hanno diciamo tanti migranti a bordo. E allora io qua vorrei dire giusto che si salvino queste persone, è ingiusto che sia solo l'Italia. Questo è ingiusto, è ingiusto enormemente, perché non può essere un carico che deve avere un solo Paese, solo perché è il Paese di prima approdo che poi ti collega all'Europa. Allora questo è ingiusto anche perché siamo in momento di pandemia, quindi abbiamo effettivamente delle difficoltà operative, difficoltà organizzative, e quindi di questo io ne ho sempre parlato anche alla Commissaria europea, lo farò anche in questi giorni, proprio perché ci sia una maggiore partecipazione anche da parte degli altri Paesi per quanto riguarda una giusta redistribuzione e quindi una redistribuzione non soltanto di uomini, ma redistribuzione di responsabilità, secondo un principio di solidarietà che dovrebbe essere il principio cardine su cui l'Europa si è formata, come che non è un'entità a sé stante, ma perché porta dei principi comuni, degli ideali comuni, l'Europa quello a sé, non ci sono questi ideali comuni e allora questa condivisione di responsabilità è un male proprio per l'Europa stessa. Quindi io ben lieta chiudo, ben lieta oggi di chiudere, di essere presente alla firma di questo importante protocollo e visto che ci sono anche organizzazioni che operano all'estero, vorrei che questo messaggio venga trasmesso da tutti noi che siamo seduti a questo tavolo per una maggiore responsabilità da parte di tutti. Per adesso bene questo protocollo che non è altro che il segnale di come l'Italia è sempre il primo Paese in questo che non si tira mai indietro e lo fa con grande entusiasmo anche, perché il pensare di aver salvato delle vite umane e di poterli dare delle prospettive di vita questo fa sì che la nostra missione per oggi è compiuta. Poi andiamo avanti. Grazie. 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 Grazie.